questa è una cosa carina sapendo che qua buonasera ti aspetta ti do dove è il microfono dove è? Ah sull'asta qua grazie bene arrivato ecco presentati adesso qui son venuto proprio dallo mio Calle e mi voglio presentare al Teatro Valle non son venuto a scuotere le palle ma son venuto senz'altro a far sentire dei versi trecenteschi perché mi han detto e me l'ha detto Luca Barbareschi che adesso francamente io dovevo fare la figura dell'assino e del ciucco perché non viene Maurizio Battista e devo riempire un buco e quindi son venuto io adesso qui su questo altare e non vorrei senz'altro da giullare devo dirvi disturbare perché voi signori e dignitari state parlando delle malattie rare ora qualcuno lì mi guarda con degli occhi stranulati e buoni e il giullare il presentatore va facendo delle improvvisazioni quindi quello che vi dico adesso mancando un po' di fiato è tutto quanto improvvisato son giullare son cortese con le rime sempre accese l'applauso vostro senz'altro mi sembra è immeritato perché qui fiorello proprio se precipitato e io non sono né suo fratello e vi dico nemmeno suo gemello ma francamente mi vorrei metter seduto su questo sgabello perché il film era straordinario la collana con l'anello quando la fanciulla posava il bambinello e l'ha messo davanti alla chiesa quel fardello e poi alla fine una cosa devo dire eccezionale il dottore che faceva un atto sessuale proprio dentro all'ospitale son giullare son cortese con le rime sempre accese vi ringrazio adesso il pubblico sembra che sia scaldato ma saluto quell'uomo che qui si è defilato che viene avanti piano piano dico venga anche di corsa posi presto la sua borsa si metta lì e faccia la buona persona si metta seduto sopra la poltrona mentre quest'altro adesso mi diverte non mi rattrista finalmente è arrivato maurizio battista che si sta sedendo proprio qui su quella poltrona di porpora colorata e perdonami adesso se la scena torrubata ma tu purtroppo ci hai dato un gran calvario che mi hanno detto che eri un po' ritardatario son giullare son cortese con le rime sempre accese amici miei però i versi mi si fanno seri care madonne cari messeri sta arrivando il colonnello dei carabinieri e quindi adesso io spengo questi ceri vi ringrazio miei personaggi belli e freschi e cedo di nuovo la parola a barbareschi grazie a tutti per la parola a barbareschi grazie a tutti per la parola a barbareschi grazie a tutti per la parola a barbareschi Grazie.